Se cerchi un'idea per Pasqua, semplice ma d'effetto, te la do io. Puliamo i carciofi togliendo le estremità, la barbetta e utilizzando anche i gambi. Acqua e limone li scoliamo e li cuociamo con olio, sale e un po' d'acqua. Una volta cotti con il coperchio, li tritiamo o li frulliamo e aggiungiamo la feta vegetale e le noci. Credetemi questo abbinamento fa sognare. Dividiamo un foglio di pasta filo in quattro parti, ne sovrapponiamo due, ripieno al centro e chiudiamo con l'erba cipollina. Un filo d'olio in superficie e via nel forno con un po' di burro vegetale sul fondo. Io li ho serviti con un po' di besciamella e vi assicuro che sono la fine del mondo. Croccanti fuori, morbidi dentro, stupirete senza fare troppa fatica. Con questi a Pasqua fate un figurone.